Grazie a tutti. Grazie a tutti. La donna può anche avviare, deve avere degli strumenti adatti a supporto per entrare a far parte del mondo del lavoro. Tra i punti principali del nostro programma vi è quello di avviare un piano di rinascita agricola per uno dei settori storicamente trainanti dell'economia della nostra città. Negli ultimi anni però molti imprenditori agricoli stanno fuoriscendo dal mondo del lavoro per tutta una serie di motivi. Ed è quindi diventato di fondamentale importanza porsi l'obiettivo urgente del ricambio occupazionale attraverso ogni forma di incentivazione, principalmente giovanile ed anche femminile. Incentiveremo inoltre la filiera corta e la produzione di latte a chilometro zero. E questo porterà vantaggi oltre che ai produttori anche ai consumatori finali. Vantaggi che per quest'ultimo non solo come riduzione del livello dei prezzi, ma anche come maggiore garanzia di qualità dei prodotti acquistati. E con la certezza dell'area di produzione e quindi con la tracciabilità completa di tutti i passaggi del processo produttivo aziendale. Prenderemo inoltre in considerazione la possibilità di realizzare un mercato fisso del contadino, di realizzare una struttura presso cui organizzare il mercato fisso del contadino. E puntiamo anche particolarmente a rilanciare il marchio di tutela del consorzio DOP. E inoltre promuoveremo il marchio dei prodotti dell'Alto Piano abbinandolo al marchio del parco nazionale degli Iblei e della città dei quattro parchi. Sì, il termine partecipiamo in effetti è un termine chiave del nostro impegno. Uno dei nostri obiettivi è proprio quello di creare una città partecipata che coinvolga il cittadino. Il cittadino deve svolgere proprio un ruolo attivo nella gestione della cosa pubblica, delle risorse pubbliche. Un cittadino che deve sentirsi protagonista nello sviluppo della nostra comunità. Il nostro obiettivo è proprio quello di promuovere i rapporti del cittadino con le istituzioni. Vogliamo coinvolgere i giovani, vogliamo coinvolgere gli studenti. A tal fine li faremo partecipare periodicamente alle sedute del Consiglio Comunale. Vogliamo creare proprio una politica soggetta al controllo diretto ed immediato dei cittadini. Il Comune adotterà anche il bilancio di genere partecipato. Cioè i cittadini devono conoscere periodicamente quali sono proprio gli obiettivi che l'amministrazione intende perseguire. Ma cosa fondamentale deve conoscere? Quali sono le fonti di finanziamento? Cioè con quale risorse l'amministrazione intende perseguire questi obiettivi? Oggi non possiamo purtroppo negare che siamo in una situazione di grave crisi economica e finanziaria, resa ancora più drammatica dai tagli imposti dalle leggi finanziarie. Per cui è fondamentale garantire una gestione sana delle risorse pubbliche, dei soldi dei cittadini. Risorse che noi riteniamo debbano essere destinate principalmente proprio a migliorare la qualità e la quantità dei servizi. Parliamo principalmente di servizi sociali destinati alle classi più deboli, agli anziani, ai più piccoli. Risorse destinate a creare sana e buona occupazione. Risorse destinate a dare impulso ai settori produttivi. Risorse destinate ad investire nella cultura della nostra città. Naturalmente individuando sempre in maniera partecipata, cioè con il cittadino, individuare quali sono le priorità dell'amministrazione. E individuate queste priorità, destinare quelle risorse economiche naturalmente disponibili a queste priorità. E se è possibile individuare anche fonti di finanziamento extra budget comunale. Le idee sono tante, l'entusiasmo c'è e noi vorremmo essere protagonisti insieme ai cittadini di una nuova epoca della nostra amministrazione. Grazie. Ecco, vedete, continuano questi incontri ai quali noi diamo molta importanza. Perché sono incontri che consentono di dire ai cittadini qual è il nostro programma. Un programma che, come ha detto bene Marcello, parlando di agricoltura, come ha detto bene Maria Congetta, rivolgendosi alle donne, allo sportello donne, Giuliana, con il bilancio partecipato, con il bilancio di genere, con l'occupazione. Il nostro è un programma nuovo, un programma di idee per il lavoro. Abbiamo voluto mettere idee per il lavoro perché ogni area problematica del programma parla di lavoro. E ci sono tutta una serie di idee per poter creare lavoro. Noi non vogliamo solo operare per la comunità, ma vogliamo operare anche con la comunità. E questo è il metodo che abbiamo scelto. Ed è un metodo che si chiama Partecipiamo. Vogliamo che si crei cittadinanza attiva. Un altro dei punti qualificanti del nostro programma è quello dei rifiuti. Noi riteniamo che i rifiuti siano una grande risorsa. Vedete, due anni fa, in campagna elettorale per le amministrative, c'è stata propaganda, si è fatta propaganda. E la precedente amministrazione aveva annunciato che entro cinque mesi in campagna elettorale avrebbero raggiunto la raccolta differenziata del 28%. Tutto questo non è avvenuto. Tutto questo lo avevamo detto due anni fa che era solo propaganda. E purtroppo i fatti ci hanno dato ragione. Ora continuiamo a vedere sotto campagna elettorale cartellone. Facciamo la differenza, facciamo la differenza. Noi la differenza nel nostro programma vorremmo farla giorno dopo giorno, quotidianamente, in maniera feriale. La differenza nei rifiuti. Noi siamo convinti con il programma che abbiamo portato avanti che intanto non si devono perdere soldi per la raccolta dei rifiuti o anche per il discorso idrico. Noi ogni anno dal bilancio perdiamo 2.700.000 euro per la raccolta dei rifiuti e per l'idrico. E questo è un danno enorme perché invece dai rifiuti bisogna ricavare sviluppo, buona e sana occupazione e bisogna anche ricavare profitto. E noi questo vogliamo fare. Noi siamo convinti, abbiamo fatto uno studio, che già dal riciclo, quindi oltre alla raccolta differenziata noi riusciremo ad avere almeno 80 posti di lavoro. Non deve più avvenire quello che è avvenuto in questi anni. In cui c'è un impianto di compostaggio inaugurato il 19 ottobre del 2009 e quel giorno stesso il sottoscritto fece un comunicato stampa dove aveva detto che avevano inaugurato il nulla. Ogni anno, io mi sono recato davanti all'impianto di compostaggio il 19 ottobre di ogni anno e ho fatto l'inaugurazione provocatoriamente del nulla. Siamo a giugno quasi del 2013, quell'impianto non ha mai funzionato ed è costato alla collettività diversi milioni di euro, oltre al conferimento della frazione umida che portiamo altrove pagandola anche. Di tutto questo noi vogliamo non lasciare più traccia, riattivare l'impianto di compostaggio. L'abbiamo messo nel programma, vogliamo puntare sul riciclo, c'è la possibilità di creare buone e sane occupazioni. Vedete, a Buenos Aires c'era una situazione estremamente grave da un punto di vista sociale. Tante persone che non avevano da mangiare raccoglievano l'immondizia. Tutto questo è stato messo addirittura in un circuito, si è trasformata in un'opportunità di lavoro e sono diventate delle società che si chiamano cartoneros. Da lì e con il riciclo tante persone disagiate hanno avuto la possibilità di avere un lavoro dignitoso e un aumento della qualità della vita. Noi punteremo molto sulla gestione dei rifiuti, faremo in modo e siamo convinti che quanto stabilito dalla legge e mai osservato dal Comune di Ragusa in termini di obiettivi di raggiungimento della raccolta differenziata lo faremo. La legge regionale 9 del 2009 prevede che ci sia una raccolta differenziata del 65% entro il 2015 con un 50% di materiale riciclato, recuperato. Noi vogliamo raggiungere e vogliamo rispettare la norma in questo senso e opereremo affinché su questo lo raggiungeremo. E lo raggiungeremo e ne siamo convinti perché abbiamo un'arma in più rispetto al passato, che è quella della cittadinanza attiva, della partecipazione dei cittadini. Cari concittadini, io sono convinto, perché ci conosciamo, perché a Ragusa la viviamo, che c'è una stragrande maggioranza, per dire tutta la cittadinanza che è assolutamente orientata a fare raccolta differenziata, a fare il riciclo dei rifiuti. Questa è l'arma vincente, l'arma strategica e su questa noi punteremo.